E ragazzi bentornati a Red Dead Redemption Che morte stupida che ci sono andato a fare Però sto facendo troppe morti Troppe morti stupide Quando è prima La prima volta che ci ho giocato ci ho fatto forse una morte sola O forse nemmeno una Ma comunque ormai siamo Siamo già qua e facciamo una missione Lupi, cani e figli Oh mio Dio A chi spari? Per la dirigenza Oh le pallotte le mica te le regalano Non bisogna te mostrare, Pawe Cosa? Non mostrare che ti stai scopendo o qualcosa O meglio mi insegnare Mi insegnare Mi insegnare Non vado a non vado 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 a dirigenza Il uomo ha stato dopo la scoperta Devo andare fuori e li scoperti Vuoi venire con me? E' sicuro con me Ok 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 Monta sul tuo cavallo Devo seguire il cane Come se non sapessi dov'è la mantia Cristo santo Ma davvero Non posso credere C'è sta cosa Ma di che cosa? Non mi insegnare Non mi insegnare Non mi insegnare Ma che bravo figliolo No Corretto proprio dissi ma altrimenti non sarebbe nato un redacte No E' probabilmente l'ho chiamato un padre Ma perché lo chiamato un padre? E' sempre fatto Probabilmente perché è sempre stato più vecchio E' sempre 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 più vecchio E andiamo Vediamo se troviamo qualche fiorellino così Dove siamo? A tool tree? Sì Vediamo se troviamo qualche fiore così Che sta fiutando Ma il cane mi sembra che stia cagando Se questo che è fiuta Mando vai Mi sono stancato di questi due Porca miseria E allora ti muovi? Stai facendo fare giro giro tondo E far venire il senso di nausea Andiamo a prenderlo Questo è il signale Andiamo! Andiamo! Quale signale è quello di sparare? Andiamo! Andiamo! Ma perché? I lupi? Allora uno Due Tre Quattro E quattro Vai Che non ho preso No si si fa E dai prendili Abbatti i lupi Entro oggi Sì Ah si stanno avvicinando Quindi Se c'è tempo Ne spoglio un altro Spero che non mi muore il cavallo Allora andiamo Allora andiamo Non lascia li arrivare troppo vicino Come on C'è pure da ruttare Easy Easy Un cazzo Ma dov'è che si stanno avvicinando? Ci sto andando io Adesso Eh no Lascia in pace il mio cavallo Cupo Alberto Lascia in pace il mio cavallo L'ho detto Ho tirato qui in pellice Wow Attaccate quello L'altro Non attaccate il mio cavallo Questo è stato un patrimonio Ok Uno e due Bene questo Come no E andiamo dai E basta Probabila tutto così facile Ma Credo che ci saranno altre Che non Sì E vabbè Borsa E andiamo Easy No Ma 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 è stato un po' di più e mi ha detto che sei un uccionista ma io vivi la vita e c'è una differenza tra il uccionismo e il uccionismo non per il primo che è morto non e credo che ho avuto un po' di più è così che si fa noi facciamo quello che abbiamo bisogno per vivere e a volte non è bello e in fine noi pagiamo il prezzo per quello che abbiamo fatto come i russisti che attaccarono i nostri cattoli? esatto! guarda quando ero un figlio pensi che erano diversi le regole erano diversi ma ora è fin continuerà a ripeterlo ma non sarà sempre così ma anche no vorrei avventare per aspettarlo per vedere se dice qualcosa guarda ah che minchia giocare di ferri di cavallo lì nooo per favore no è come giocare a bocce no c'è guarda guarda lo ok questo è mi darà un'altra missione con un orario appunto che rottura di coglioni bisogna rispettare gli orari che cazzo e allora perché non puoi metterla a 90 gradi che cazzo devo fare io adesso ritornate alle 5 e mattine alle 7 e poi facciamo che sopporto queste missioni con gli orari così mamma mia mai mai sopportato c'è qualcosa da fare? oh io me ne torno lì a trovare quell'ultimo fiore che mi serve almeno completo conoscitore d'erba è vaffanculo dunque che le sono nel gioco? le 20 quindi basta vedere non ce ne erano adorologhi digitali qui ah non è che posso andare a fare una partita a poker di nuovo sempre il poker e no il blackjack si ma non finisce mai il blackjack a cercare qualche fiorellino aspetta forse l'ho trovato appunto l'ho già trovato e adesso che cosa mi dirà? qualcos'altro che avrò già preso tante volte l'uscitore d'erba è a livello 7 completo e adesso 12 papilli della prima giornata quello che potresti già avere li trovi nella grima e vabbè ma immaginavo comunque di qua ho finito io me ne vado a blackwater con la speranza di trovare tante tanti papaveri mi vado a giocare una partita a poker così solo che forse devo cambiare il vestito per forza perché dice indossa questo vestito per giocare alle puntate altre a alta blackwater great plans per la maggior parte sono lì ne devo trovare 12 cosa è questo? che poi me lo chiederà ancora il ribo è storato è in aggiunta a quello che potresti avere mica me le complete ma che c'è devo perderci sempre tempo no troppo facile allora facciano delle piante me le ricordo bene queste ripeste da lato e non mi interessa eccolo qua che pavero delle praterie ne ho già preso uno fammi vedere se me la dà il progresso dopo che mi dice più uno ok andiamo in giro era qualcosa per utilizzare che mi dà riconosce subito dove sono i fiori no? andiamo qual'era? no 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 questo non senta niente ripeste no 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 si ok mostro tutta l'erba ok ce l'ho ancora? no per 20 minuti quindi sarebbe a dire per 10 ore 10 ore un papà vero delle praterie 4 c'è ne sono altri c'è un baule apri il baule 22 dollari 22 dollari che succede là? ho dato la mano a cacciare sono 6 circa 6 sono no questa non mi interessa ok ok queste fanno 7 e mancano 5 no questo no questo lo spuoglio ok spuogliare carne di lupo sono sempre 8 siamo finta che siano 8 papà vero delle praterie mi sembra che siano arriva qua e sono 9 dai che le sto finendo arriva e sono 10 se non so quanti ci sono 11 adesso sapremo senza guardare quante sono no quello non mi serve no no non mi serve quello non mi serve quello nemmeno e l'altro e l'altro nemmeno questo è già stato preso sono ricomparsi i fiori ok 11 o 12 11 e adesso siamo a 12 ok adesso mi dirà di trovare il rubus figuro ah è il rubus e il ripus andalo faccio da subito quale è il problema me l'arrivo a livello 10 posso vedere il video così ok che no questa no questa no questa no devo andare di nuovo lì oh questa si slow down 1 arriva il sudorato ne mancano 14 mancano 14 mancano 14 adesso ne mancano 13 adesso ne mancano 13 ne mancano 12 questo ne mancano 12 vista ne mancano 12 non sono ancora finita gli effetti della mappa dei fiori dei fiori ne mancano 11 fai che mica dei bucaneve e mancano 14 e mancano 14 e mancano 15 con questa ne mancano 15 e mancano 15 quanta sono che ora sono e ancora c'è il tempo mancano 9 stanno biegando un po' di tempo qui mancano nove ok 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 veniamo si come no come no vai con la carne di cavallo vediamo che dice direttore scelto disano senza ricaricare cambiare arma 3.099 dollari yes te ne mancavano no l'ho detto mancano 8 adesso mancano 8 adesso adesso ne mancano 7 6 5 li vedo da qui li vedo da qua ok ok ancano 6 con questo 5 sempre se non è no, è quello lì, è quello giusto, mancano cinque, ora ne mancheranno, sono tutti quelli lì sono quelli corretti, ne mancheranno due, adesso, con questo facciamo quattro, queste ne mancheranno quattro, con quello non lo so quanto ne mancheranno, queste ne mancano tre, ne mancheranno due, ne mancheranno due, è sparito l'effetto, e sono questi, quelli che mancano, manca uno, ne manca uno, dovremmo essere, dovrebbero esserci tutti adesso, ha lisciato, no, adesso mi chiederà, mi chiuderà, mi chiederà, mi chiederà il buca neve, sicuro, appunto, poi raccogli altre delle piante di ciascuno tipo disponibile, cazzo, di tutti gli altri tipi di fiori che ho preso, beh, intanto cominciamo a prendere questi, cominciamo a prendere questi, prendiamo altri due e poi basta, prendere dieci piante di buca neve, le tre del mattino si stanno facendo, devo andare lì, questo video sto dedicando, soltanto l'hai conosciuto di terra, andiamo a vedere cosa c'è, questo video risulterà noioso per alcuni, niente buca neve, dobbiamo prendere dieci piante di buca neve, dopodiché devo prendere gli altri tipi, quindi un totale di ventotto perché, perché è così, wow, non me lo posso lasciare scappare questo, oh merda, tu non mi ammazzi, quanti armadigli ho beccato, prima mi sapevo che ne avevano imbaccati due, così si fa, carne di cinghiale più uno, oh mio dio, credo di avere quattro cinghiali, così, altisono, già fatto, no, ho fatto un cazzo, ma che fiore c'è, quello che non mi serve, però bisogna andare di qua, adesso mi chiedo la sfida, col ferro, e voi, è come attiamo, non è, che ci vuoi, ok, uno, e siete, Ah merda Devo usare... Dai, dai, no, per favore Allora, uno E dai Ok No, la mela rivincita, adesso perderai Non si stava nemmeno provando Ok Uno Fammi vedere Ok Allora Due Mi rimane uno Davvero Ma io ne avevo contati solo tre Però vabbè Ci siamo persi Per cinghiale Cristo santo Non mi scapperai adesso Carne di cinghiale Buonissimo Così mi hanno detto C'è pure una lì No, forse quella è di spuma Non è una lì Cosa Cosa di cinghiale Cosa di cinghiale Io credo Io credo che mi manca un armadillo Non un cinghiale Credo proprio che mi manca un armadillo Adesso lo vedremo Cosa di cinghiale Appunto No, no Mi si mancava il cinghiale Bene Redatore a livello 4 Cosa mi chiede adesso di Cacciare Uccidi due puma con il coltello Uccidi due puma con il coltello Voi coi bucaneve Ne mancano 9 Bucaneve più uno Due 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 Ok Un bel orso Un bel orso Un bel grizzly Un bel grizzly Ehi lona Pazzitta Se no vieni scuolata pure tu No no Carne di grizzly Plus one Grazie lona Che ti devi sempre entromettere nei miei video Questo cane mangia troppi fagioli Un altro grizzly Un altro grizzly con i bucaneve siamo a tre con i grizzly credo che siamo a tre cercare altrove grazie luna ecco ti rock no giusto controllo la batteria del controllo è scarica da un bel po' che non mi chiedeva di metterla in carico l'altro pad luna come cavolo fai a mangiare i fagiolini è stato spettacolino oh mio dio muori siamo a 6 o 7 non li ho contati e questa è la carne di grizzly la prendo ok non sembra che scappa eccolo la vedo che siamo a 7 oh merda di volte dai mi no cristo no 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 no